Bentornati a Baywatch, l'unico show che mostra la realtà della vita. In questo video mostreremo la situazione di una particolare riempatiata. Che il video cominci! Questo video comincia in medias rex, scusate, in medias res e quindi ecco qua. Io che lo lancio, l'anello però fa male. Poche ore prima, però... Pronto? Ciao Giovanni, come sta? Cosa? Mi ero impatriata? Ah, mi ero impatriata! Davvero? Mi ero impatriata? Eh... Ah, alla pizzeria qua giù! Che lo vuoi? Eh sì, però eh... Eh sì, eh sì, sì! La piscia sotto! Qua giù! Cipolle! Arata! Brasos! Sedia! Domani che ti metti allora? Frigorifero! Frigorifero ti metti? Sì, non mancherò, tranquillo! Allora ci vediamo domani! Cipolle! 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 Ah, bel posto! Ah, quanto tempo non vi vedo ragazzi! Eh che dire, non ci vediamo quella volta in cui tu e Alfredo facessi quel video ridicolo! What's going on? 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 Ed ecco terminata un'altra grandiosa puntata di Baywatch, uno sguardo ai belli. Purtroppo durante le ripese della rimpatriata il nostro cameriere ci ha lasciato le penne. Ma comunque addio alla prossima puntata. What's going on? 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 How are you? What's going on? What's going on? Grazie a tutti.